ciao amiche di filo benvenute nella mia casa oggi voglio proporvi un progetto facilissimo indicato anche per le dilettanti per realizzare questo cuscino a caramella eccolo qui è veramente molto molto carino se vi piace vi mostro subito i vari passaggi per realizzarlo bisogno di un interno come questo qui di spugna io l'ho acquistato peraltro lo devo ancora ritagliare per la misura che mi interessa oppure potete in alternativa utilizzare l'imbottitura questa piatta e ripiegarla e poi girarla in questo modo ok potete utilizzare anche questo ovviamente le misure sono quelle che voi preferite e avrete poi bisogno di un pezzo di tessuto di questi per d'arredamento e utilizzerò un fiocco è un progetto facilissimo allora per quanto riguarda il tessuto che dobbiamo ritagliare dobbiamo prendere la lunghezza della circonferenza e aggiungere due centimetri la lunghezza del nostro cuscino aggiungere 60 centimetri le uniche operazioni prepariamo qui prepariamo quindi il tessuto caso specifico il tessuto che ho ritagliato sarà di 40 più 60 centimetri quindi un metro di lunghezza e la larghezza invece come la circonferenza più due quindi nel mio caso 44 centimetri perché avevo 42 centimetri di circonferenza diventano 44 prendo il tessuto questo sarà il lato più corto di più di 44 vado a prendere da questo bordo se non è ben definito tracciate una linea e definitelo per bene in modo che viene continuo andate a prendere da questo bordo 30 centimetri quindi misurata e 30 marcate da questa linea di riferimento e unisco i punti ecco qui faccio la stessa operazione anche su quest'altro lato ora vado a ripiegare questa parte di tessuto fino alla marca per circa mezzo centimetro all'interno fino a qui e metto proprio lo spillo in questa maniera se necessario passate il ferro da stiro faccio la stessa operazione su quest'altro lato e ovviamente su questo tratto è questo e vado quindi alla macchina da cucire ed effetto una cucitura su questi lati queste sono le cuciture che ho fatto sul dritto e questo sul rovescio ovviamente su questi lati qui fino alla marca e anche di qua fino alla marca tolgo questi eccessi piego questo lato qui per meno di un centimetro metto gli spili su questo lato eventualmente stirate se è più comodo per voi e vado a ripiegare così su questa linea che ho tracciato quindi tolgo questo spillo e lo sistemo all'esterno questo e lo sistemo all'esterno ecco qua tolgo questo e lo vado a sistemare ora alla macchina da cucire effetto una cucitura con il punto dritto e una seconda cucitura parallela a questa a circa due centimetri a due centimetri da questa ok quindi qui a due centimetri posso marcare tranquillamente con questa penna con una penna cancellabile è meglio ma io lo faccio con la matica quindi farò una cucitura su questo qui proprio al bordo e su questa linea che ho tracciato ovviamente ripeto tutte le stesse operazioni anche su quest'altro lato due cuciture parallele che io ho fatto e questo è sul retro vi faccio notare che mi sono sono andata proprio vicino qui al bordo e quest'altra l'ho fatta come avevo segnato ovviamente l'ho fatto anche su quest'altro lato ora giro mettendo dritto su dritto faccio coincidere per bene queste qui queste due cuciture e fisso e faccio la stesso allo stesso modo qui dove ci sono questi questo canaletto in realtà fisso per bene ora alla macchina da cucire effetto una cucitura con il punto dritto eventualmente anche uno a zig zag per rifinire postura proprio da questo bordo avanti e indietro fino a quest'altra lunghezza qui mi fermo ovviamente quando incontro questo bordo se voglio rifinire per bene faccio un punto a zig zag prendo il nastro che voglio inserire qui all'interno ne devo prendere questa quantità raddoppiata più quello che mi serve per effettuare il fiocco io direi il doppio di questo poi eventualmente lo ritagliamo utilizzo questa spilla semplicemente prendendolo in questo modo e lo faccio passare all'interno di questo canaletto qui ecco qui sono arrivata sul lato opposto tiro per bene tolgo la specie faccio la stessa operazione anche su quest'altro lato guardate come si vedrà una volta che il nastro è passato giro così e vado ad inserire l'imbottitura e la inserisco all'interno con un po' di cura la vado ad inserirla in questa maniera ecco qua fate arrivare ovviamente fino a queste due cuciture quindi tirate schiacciate un po' l'imbottitura e tirate questi nastri ecco qui prendo e chiudo così ovviamente faccio eventualmente due nodi e poi un bel fiocco guardate che carino faccio la stessa cosa anche su quest'altro lato ovviamente rifinire il fiocco facendo ecco questo qui oppure se voglio qualcosa di più particolare lo divido così a metà e lo taglio così decido come mi piace di più sia su questo lato ovviamente che su questo e il mio bellissimo cuscino caramella è pronto guardate rifinito alla perfezione amiche se vi è piaciuto lasciate un like lasciate un commento condividete questo video ovviamente iscrivetevi al canale se vi fa piacere ciao amiche vi abbraccio al prossimo tutorial